Mila Roma, Mila Roma, questa è Mila Roma! Dai, 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 dai! Si, 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 dai, dai, dai! Si, hai capito l'intensione della versata. Dai, 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 dai! Vai, 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 vai! Balleretto! Ballone sferato dal portiere che... Rosso, neri, siamo noi, ma chi cacchio siete voi! Rosso, neri, siamo noi, ma chi cacchio siete voi! Oh, scusa, se ho fatto male, mi sono fatto male io. Eh, adesso ti faccio vedere un po' di tele, eh. Facciamo un po' di zazzi, facciamo il giro delle private. a caso sarà una partita combattuta no non è possibile Maurizio Moschito tu che si va contro il Milan la Roma farà risultato ma affacolo cielo del malogorio ma che cacchio dici adesso il Milan perde in casa con la Roma impossibile barbone dun barbone adesso ti faccio vedere io a me e tutte le altre squadre mi fanno cagare guarda lì eh adesso lo chiamo cazzo il massimo del rendimento poi magari hanno un certo calo Maurizio abbiamo siamo il primo telespettatore in linea ah bene con chi parlo? sono Silvio Galiani oddio Silvio ancora tu che domanda vuoi fare stavolta sentiamo no dunque volevo dire che te stasera con quel pendolino lì mi hai agitato un po' secondo me non è giusto agitare i minalisti col pendolino anche perché è il mio Mila perde in casa con la Roma non è possibile cosa dite ragazzi anche voi eh non è possibile caro Silvio il pendolino dice così cosa vuoi che ti dica? si vabbè ma se il pendolino parla come chi lo tiene in mano dice delle strozzate bestiali hai capito? e poi butalo via che porta sfiga il pendolino uè ho fatto bene a dieglie ne quattro vero Cristian? senti Silvio sai cosa ti dico stavolta mi hai proprio rotto le scatole se vuoi parlare di calcio parliamo di calcio va bene parliamo di calcio parliamo di calcio però del calcio il culo che ti meriti perché domenica scorsa all'Albertini te ci hai dato sei e quello meritava otto ma quale otto? per favore non facciamo ridere dai per me il tuo pendolo pende per il pelato braziliano non ti permetto di fare queste in azioni chiaro? sai cosa ti dico Silvio? non ti ringrazio e poi per favore chiudete immediatamente la comunicazione io questo lo denuncio lo denuncio ai carabinieri gli faccio passare un brutto quarto d'ora cosa da pazzi i tifosi del Milan mi sono simpaticizi ma gente come questo Silvio meriterebbe che il Milan le partite le perdesse tutte le mosche sai se dove devi andare tu devi andare per cui si possono le mosche mi consenta hai capito? barbone parliamo dell'altra grande è il mio televisore è il mio ma che è successo? chi ci ha messo qui? e ma chi io lo dici a mezzio? te chi vuoi che io lo dici? mortacci vostri buona non è che i brigati rossoneri ci hanno individuato e che c'ha nel GPS? comunque ce lo sai che ti dico? si vanno la guerra l'avrebbero! terribile! che te lo finisci?